Chi invita Messinese a governare la città nonostante il terremoto che si è verificato in Casa 5 Stelle dimostra di non avere a cuore le sorti di Gela. Come dovrebbe il sindaco messinese a giudizio di queste anime candide affrontare e risolvere i drammatici problemi che stanno facendo sprofondare il nostro territorio verso un baratro da cui sarà forse impossibile uscire? Lo ha scritto in una nota il leader di un'altra Gela, l'avvocato Lucio Greco. Certo un sindaco così debole per giunta sconfessato e scomunicato dallo stesso movimento che lo ha proposto può far comodo a tutti. Privato della corazza del movimento di cui faceva parte, leggiamo ancora nel documento, e senza più poter beneficiare delle garanzie dei vertici regionali e nazionali dei 5 Stelle, quel sindaco che dovrebbe governare la città si è ridotto ad una sorta di fantoccio, impossibilitato a prendere qualsiasi decisione autonoma in linea con quanto proclamato durante la campagna elettorale. Può se vuole rimanere, ma ad una condizione sconfessi se stesso tutto il suo recente passato e ubbidisca tutti gli ordini che i furbetti del paese sono pronti ad impartirgli. Non si comprendono però le ragioni che lo hanno spinta a presentare ricorso contro l'espulsione dal movimento 5 Stelle. Perché delle due l'una, continua Lucio Greco, o è un sindaco rappresentante delle 5 Stelle, per coerenza quindi dovrebbe rifiutare l'appoggio di chi fino a ieri era nei suoi avversari politici da abbattere, oppure un furbastolo della peggiore specie che ha già stretti accordi sotto banco con chi ha affossato la nostra città. Dalle scelte future capiremo quale delle due posizioni risulterà essere vera. Per intenderci e per essere chiari, se in caso di esito negativo del ricorso si dimette, siamo di fronte ad un galantuomo degno di rispetto. Se invece nonostante la conferma dell'espulsione rimane incollato alla poltrona disponibile a fare accordi a destra e a manca con chi che sia, siamo di fronte ad un avventuriero senza scrupoli, un nemico della città e un qualunquisto opportunista che va bloccato politicamente al più presto possibile senza ricorrere alle fantasiose e sofisticate gattopardesche analisi di qualche rappresentante della nostra povera politica gelese, conclude Lucio Greco di un'altra Gela. Grazie a Pizzardi, Ivan Muncibi, Emanuele Gaspare Bonaventura, Aurora Sciandra e Vincenzo Iapicaello sono i componenti del nuovo organo garante del meetup Gela eletto dall'Assemblea degli Attivisti secondo il regolamento vigente. Nel corso della riunione inevitabilmente è stata affrontata la questione relativa alla situazione che si è venuta a creare a seguito della sospensione del sindaco Domenico Messinese dal Movimento 5 Stelle. A questo proposito il meetup Gela Comune 5 Stelle si legge in una nota inviata alla stampa a firma di Grazia Pizzardi alla luce dell'impegno che il sindaco e l'amministrazione ha profuso in questi sei mesi per iniziare a dare risposta ai problemi determinati da vent'anni di mala politica che non è riuscita a dare alcuna prospettiva di nuovo sviluppo ai gelesi, ritiene risibili e speciose le motivazioni per la sua sospensione dal Movimento addotte dallo staff di Grillo che ha fatto propri i precisi input di personaggi locali, provinciali e regionali che non amano Gela. Il meetup Gela Comune 5 Stelle ritiene che la voglia di cambiamento espresso dai cittadini non sia venuta meno e il sindaco e la sua amministrazione, senza miracolismi, leggiamo ancora nel documento, stanno lavorando per interpretarne la genuina richiesta senza tuttavia sventolare una bandiera che per alcuni attivisti avversi e qualche ex assessore è divenuto uno scudo per imbrigliare il sindaco in giochi di potere tendenti ad affermare interessi personalistici che nulla centrano con l'interesse generale della città. Arriva poi l'affondo nei confronti dei consiglieri comunali che hanno preso le distanze dal primo cittadino e dalla sua giunta, il meetup Gela Comune 5 Stelle con rammarico prende atto della decisione di quattro consiglieri del Movimento 5 Stelle che in consiglio comunale sono passati all'opposizione del sindaco, scrivono ancora i componenti del meetup Gela Comune 5 Stelle tenendo un atteggiamento di contrasto all'amministrazione fin dai suoi primi passi. Consiglieri che tradendo il mandato ricevuto dai cittadini si sono accordati con una frazione del Partito Democratico per spartirsi le presidenze delle commissioni consigliare i componenti del Collegio dei Revisori. Atteggiamento contrario a quello che è previsto nel programma elettorale presentato ai gelesi e ai principi costitutivi del Movimento. Il sindaco e la sua amministrazione hanno tutto il tempo necessario per dare attuazione e forza al programma di cambiamento presentato ai cittadini, aprendo un confronto con tutti i consiglieri, le forze politiche, i movimenti civici e l'associazionismo attivo presenti in consiglio comunale nella città per agire nel comune intento di fare uscire la città dalla palude in cui si trova. Successivamente a questa fase dei comuni intenti si tireranno le somme e nel caso si darà il potere ai cittadini di esprimere il loro giudizio sull'amministrazione che si manifeste in un solo modo, le elezioni. Il Meetup Gela Comune a 5 Stelle invita quindi il sindaco e la sua giunta ad andare avanti nell'attuazione del programma del Movimento 5 Stelle presentato agli elettori sapendo che in quel programma ci sono molte delle soluzioni per risolvere i problemi della città candidandola ad essere una bella, prosperosa e vivibile città di pace, porta europea del Mediterraneo. Conclude grazie a Pizzardi. Dopo settimane di fuoco incrociato dunque per il primo cittadino arriva all'appoggio ufficiale con un documento del Meetup Gela Comune a 5 Stelle in attesa che il ricorso di Messinese avverso la decisione di espulsione dal Movimento 5 Stelle venga esitato. La partita dunque è ancora aperta. Professore Mulè, sono ormai anni che lei chiede la rimozione degli alberi di Ficus di Piazza Umberto I e spiega anche otto validi motivi. Quali sono questi motivi? Innanzitutto devo dire che dagli anni 90 ogni amministrazione che cambia, l'archeoclub sulla base delle esigenze dei cittadini, perché non è che se le sogna dall'oggi al domani queste denunze, quindi sulla base della richiesta di migliaia di cittadini dagli anni 90 in poi ogni amministrazione che cambia fa la solita lettera di eliminazione di questi alberi. Fino adesso non ci siamo riusciti. Adesso con questa nuova amministrazione ho fatto una lettera aperta in cui espleto tutta una serie di situazioni, in particolare otto motivi che a nostro modo di vedere, non solo a nostro modo di vedere, consentirebbero la restituzione alla città di questo salotto di Piazza Umberto I che è stato sotto l'aspetto del decorurbano e non solo sotto l'aspetto del decorurbano ridotto ai minimi termini. Possiamo passare velocemente, rassegna questi otto motivi. Sono otto motivi, il fatto che non si riescono a vedere nella loro integrità i palazzi storici prospicenti della piazza, compresa la chiesa madre, anzi quei due alberi che hanno tolto già consentono una buona visione della chiesa stessa. Poi dal punto di vista della riduzione della superficie della piazza che sembra molto piccola perché le icome di questi alberi l'hanno completamente stravolta e poi altre situazioni, però ce n'è una importante che, a mio modo di vedere, rappresenta un'emergenza sanitaria perché gli escrementi degli uccelli, una volta che si essiccano, si polverizzano, vengono respirati e poi, peggio ancora, per chi ci passa sopra, si porta presso sotto la sola delle scarpe questi escrementi e quindi va a contaminare possibilmente anche il pavimento della propria casa. Quindi, a mio modo di vedere, sarebbe ora che finalmente questa amministrazione, rispetto alle altre, mettesse in opera l'eliminazione di questa indecenza che poi si riduce a un decoro urbano vero e proprio. Si prepara a Gela la mobilitazione generale dell'area industriale di Contrada Piana del Signore prevista per il 20 gennaio prossimo. Affrontiamo l'argomento degli incontri al Mise e della drammatica vicenda Vertenza Gela con il vice sindaco Simone Siciliano. La programmazione di chiusura di anno prevedeva che a gennaio ci fossero diversi incontri tra il Ministero, Eni e poi di volta in volta le regioni, i sindacati e le amministrazioni comunali in cui Eni inzeda le proprie attività, proprio per chiarire da un lato la posizione di Eni di voler continuare a investire sul territorio nazionale e nel nostro caso sul territorio gelese che è stato comunque più volte confermato, dall'altro invece la volontà dei Ministeri di far sì che Eni possa continuare a investire sul territorio. Per quello che ci riguarda noi abbiamo un incontro giorno 20 mattina a Roma al Ministero e è auspicabile che ci sarà anche la Vicari e il Ministro Guidi per discutere delle strategie nazionali sul territorio di Gela in merito all'accordo di programma. Stiamo provando a contestualizzare giorno più giorno meno anche l'incontro di verifica sul protocollo d'intesa che si incastra di altri incontri che stiamo effettuando con Eni proprio per le attività diversificate che la stessa Eni vorrà implementare all'interno dell'area della raffineria in alternativa a quello che è stata l'economia di base. Assessore, nonostante il terremoto che è accaduto all'interno del Movimento 5 Stelle la vostra azione amministrativa continua su diversi fronti? Sì, l'azione amministrativa non si è mai fermata, la logica di questa amministrazione è quella di concertare con tutto il Consiglio Comunale fin dal primo giorno le azioni programmatiche che competono anche al Consiglio Comunale, singoli consiglieri per lo sviluppo del territorio a 360 gradi. Non è cambiato l'assenza o meno a favore di questa amministrazione di 4, 3 consiglieri comunali perché di fatti il cambiamento che questa amministrazione vuole rappresentare è legato semplicemente al fatto che nessuna logica politica di tipo gerarchico può condizionare le scelte dell'amministrazione per il bene della città. Ho ripetuto più volte che noi non ne vogliamo fare una battaglia ideologica o di colore politico perché gli unici colori che vogliamo difendere sono quelli del territorio gelese. Si continua quindi a lavorare su diversi fronti tra le sue competenze specifiche c'è proprio quella dell'ambiente. Sì, proprio in materia di tutela ambientale stiamo cercando di migliorare il parco tecnologico delle centraline di monitoraggio sia in termini di quantità che di qualità imbiantistica. I dati di queste centraline ci permetteranno di capire anche la ricaduta delle polveri sottili dovute alla viabilità classica presente in città e proprio in merito a questo argomento stiamo cercando di concertare con l'assessore Catania tutta una serie di azioni per mitigare le difficoltà che possono insorgere dalle stringenti misure di chiusura al traffico soprattutto nei mezzi pesanti in via Venezia con quelle che possono essere le tutele sulla salute ma soprattutto la tutela di chi in quelle aree lavora e sperabilmente non veda in queste ordinanze un intralcio alle attività produttive. Ottimizzare le vie di comunicazione per gli autotrasportatori e ridurre il traffico pesante e le polveri sottili in via Venezia per aumentarne la sicurezza per gli utenti sono gli obiettivi dell'accordo raggiunto dall'amministrazione comunale di Gela con la categoria degli autotrasportatori. E' stata fatta un'ordinanza dal sindaco del 15 dicembre 2015 per la sicurezza e i livelli di inquinamento sulla via Venezia perché sono a livelli altissimi abbiamo ricevuto le dovute comunicazioni da parte dell'ARPA e degli enti competenti che ci invitavano a risolvere la situazione allora l'amministrazione ha fatto un'ordinanza che dalle 7.30 alle 21.30 c'è un divieto di transito per tutti gli autotrasportatori che hanno dei veicoli superiori a 3,5 tonnellate a questa per consentire l'esercizio delle proprie attività visto che la via Venezia è piena di attività commerciali si sono imposte due finestre di tolleranza che vanno dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17 che consentirà agli autorizzati di poter comunque lavorare il fine di questa ordinanza è quella di tutelare soprattutto il passaggio delle scuole per i genitori e i figli durante il periodo di ingresso scolastico in alternativa percorreranno la famosa strada dei due castelli e quindi bypasseranno la città di Gela se non hanno la necessità di consegnare delle merci sulla città di Gela è prevista però un'ulteriore tolleranza a seguito di una riunione fatta con i trasportatori ci hanno segnalato che la parte che va dalla stata statale 115 fino a Vieniscemi al Bivio con lo stadio Vincenzo Presti e costituisce un'arteria fondamentale per la sosta anche tecnica di urgenza o comunque per caricare e scaricare materiale che proviene dalla stazione nell'eventualità insomma che ci siano dei treni in transito merci e quindi abbiamo già predisposto una nota interpretativa al comando di Polizia Municipale per essere utili sulla gestione di queste esigenze dei trasportatori protesta dei lavoratori della raccolta dei rifiuti che lamentano il ritardo nel pagamento degli stipendi si sono dati appuntamento a Palazzo di Città dove hanno avuto un incontro con il sindaco Domenico Messinese e alcuni componenti della giunta al fianco dei lavoratori la CGL è stato importante oggi l'incontro con il sindaco e la giunta perché hanno assunto l'impegno di contattare subito la Tegra per assicurare non solo il saldo del mese di novembre ma un congruo acconto del mese di dicembre così entro gennaio da prenderlo tutto se così non dovesse essere non solo la CGL programmerà lo sciopero ma tutte le relazioni sindacali si interromperanno perché i lavoratori hanno bisogno di parole che poi si concretizzano e hanno bisogno di portare nella loro casa gli stipendi perché assicurano un servizio utile alla città e lavorano per avere la giusta retribuzione né a conti né anticipazioni soltanto abbiamo raggiunto questo accordo con il sindaco, il vice sindaco e qualche altro impegato dicendo che la Tegra ci farà ora la differenza dello stipendio di quello che ci deve dare in più il 60% e speriamo che mantengono i parteggi che non succede poi, che poi il 101 ci debbano dare la differenza speriamo che così, in modo che possiamo dire abbiamo vinto una volta magari perché non abbiamo vinto mai il sindaco di Gela Domenico Messinese abbiamo ascoltato dei problemi reali che hanno i lavoratori purtroppo certe attività di gestione alla fine cercano di essere scaricate sui lavori e questo lo vogliamo evitare il problema è il mancato versamento dello stipendio del mese di dicembre questo è dovuto sostanzialmente a dei debiti fuori bilancio dell'anno passato e di una mancanza di liquidità da parte dell'azienda che deve in ogni caso garantirlo per almeno tre mesi potevamo tranquillamente fare un'azione di forza perché noi siamo in regola con il pagamento fino a novembre quindi siamo oggettivamente in avanti tanto per capirci l'anno scorso, nello stesso periodo erano fermi a settembre quindi siamo stati molto più precisi e puntuali però intanto chi è che ne piangerebbe le conseguenze sono i lavoratori e questo vogliamo evitarlo per questo abbiamo fatto una serie di solleciti per poter dare almeno un anticipo per consentire di pagare tutte le scadenze che ci sono anche a fine anno e che giustamente le persone si trovano senza liquidità per poterle affrontare tutte le fatture che non sono state pagate ad oggi perché hanno assorato il budget che era previsto questo è un problema che qualcuno ha tentato di nascondere ma che in realtà bisogna affrontarlo proprio per evitare che i lavoratori poi ne pagano le conseguenze è stato a Gela il presidente nazionale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani per annunciare che si svolgerà nella città del golfo alla fine di maggio nell'ultimo venerdì l'assemblea nazionale dell'associazione Angopi che lui stesso rappresenta un'occasione importantissima per offrire a Gela la ribalta nazionale promuoverne l'immagine ma nello stesso tempo trovare soluzioni alle problematiche che riguardano la portualità locale è stata annunciata la presenza oltre che di 90 rappresentanti dei porti italiani di importanti personalità della politica nazionale e internazionale questa iniziativa si va a Gela perché è stata fortemente voluta dal gruppo ormeggiatori di Gela e in modo particolare dal suo capogruppo l'ottimo Vincenzo Cassiana e si coglie questa opportunità come si diceva per aprire una finestra alle istituzioni ai decisori pubblici sulle questioni che attanagliano quindi cogliere questa opportunità per rappresentare le questioni che attanagliano la portualità gelese l'evento è stato fortemente voluto dal gruppo ormeggiatori Gela è stato importante che l'Angopi abbia accettato di fare la sua assemblea quest'anno nazionale a Gela perché si parla di un'assemblea nazionale dove si toccheranno tutti i temi della sicurezza a livello portuale sia nazionale che europeo avremo circa 90 rappresentanti dei porti italiani nonché autorità del nostro governo o loro rappresentanti che parteciperanno a questi lavori quindi sarà una finestra importante per la nostra città e qualcuno sarà visibile il nostro porto o le condizioni in cui versa quindi approfitteremo di questa assemblea per far vedere le condizioni della nostra città diremo che il Gela non ha un porto non ha mai avuto un porto a livello sia commerciale che industriale industriale forse qualche anno fa ma adesso non esiste più quindi diremo che Gela non ha un porto e sposteremo l'attenzione della loro assemblea qualche volta anche sulla nostra città Soddisfazione è stata manifestata dal comandante della Capitaneria di Porto di Gela Pietro Carosia Ritengo che sia un'occasione importantissima un trampolino di lancio per Gela questo convegno che avremo a maggio dell'Angopi penso che potremo sfruttare il nostro vantaggio intanto le bellezze del nostro territorio e poi per poter ulteriormente portare a conoscenza delle nostre problematiche importanti politici a livello anche europeo quindi sono sicuro che sarà esclusivamente un vantaggio per Gela avere il convegno dell'Angopi qui da noi Incontro alla scuola media Ettore Romagnoli di Gela tra le terze classi e la giovane scrittrice Chiara Giunta per la presentazione del libro Un saluto dal cielo edito dalla casa editrice Albatros Sono tanti i messaggi che vorrei inviare temi fondamentali della morte molto spesso non vista nella maniera giusta del valore della vita, della famiglia, dell'amicizia quindi quei temi che molto spesso a una certa età vengono sottovalutati L'idea è nata a seguito di uno spiacevole incidente di un mio amico che è morto e quindi da qua ho sentito il bisogno di far sentire la mia voce È un onore poter lasciare un messaggio poter spingere gli altri a realizzare il proprio sogno L'incontro organizzato nell'istituto diretto da Sandra Scicolone è stato realizzato in collaborazione con il Kivanis Club di Gela preseduto da Emanuele Salafia Allora il Kivanis è un club service che si occupa, che lavora nel territorio e si occupa prevalentemente di problemi legati ai ragazzi e quest'anno anche agli adolescenti Aver saputo che una ragazzina ha iniziato, penso Chiara, a scriverlo da 15-16 anni quindi il libro, si sia gimentata nell'arte nobile della scrittura scrivendo il libro e addirittura facendolo pubblicare è un'idea che ci ha ammaliati per cui abbiamo voluto far conoscere al territorio la presenza e l'esistenza di Chiara e la presenza del suo testo perché sia un monito e uno stimolo a ragazzi da fare altrettanto Io quest'anno girando per le varie associazioni locali mi sono reso conto che abbiamo un territorio ricco di eccellenze ma ricchissimo di eccellenze in cui i ragazzi fanno in effetti da padrone e manifestare e far conoscere l'eccellenza secondo me è un dovere più che una situazione morale La tutela del territorio e della sua gente è l'obiettivo a cui mira nel processo civile apertosi lo scorso 13 gennaio al Tribunale di Gela l'amministrazione comunale questa mattina la sindaco domenica commissionese ha illustrato la posizione del comune assieme all'assessore all'ambiente Simone Siciliano e dal componente della giunta con delega agli affari legali Fabrizio Morello Noi facciamo gli interessi della collettività esitare al decoro al nostro territorio è fondamentale noi abbiamo detto che chi sporca deve pulire non si può andare lasciando lo sporco a casa nostra io sono convinto che vivere in un territorio pulito sicuramente si vive meglio in un territorio che sia salubre per noi e per i nostri figli quindi è un atto che per noi è in continua ma è lineare in sintonia con quello che abbiamo fatto sin dal primo giorno da quando ci siamo insediati fra le altre cose ci siamo pure preoccupati di tutelare le persone che hanno un'attività lavorativa a seguito di queste produzioni che abbiamo chiesto quindi un fondo per poter garantire un reddito considerando che molte volte lo Stato a livello centrale si è dimostrato di essere poco attento di essere distratto abbiamo voluto sottolineare che c'è anche la necessità se il giudice dovesse decidere di chiudere tutte le attività di poter garantire nel transitorio un reddito per i lavoratori che dipendono dalle attività che sono state messe in discussione l'abbiamo detto in campagna elettorale adesso iniziano a derivare gli atti concreti per cui chi ha sporcato e chi sporca o chi sporcherà in questa città dovrà avere la briga di pensare anche a pulire questo è il tema di fondo su cui in alcun modo non torniamo indietro Intanto la prossima settimana al Ministero dello Sviluppo Economico il primo cittadino incontrerà i governi nazionale e regionale sull'accordo di programma Tutti i territori italiani in cui ci sono state attività prevalenti l'Irva Taranto altre siderurgie a Piombino le raffinerie a Gela altre attività prevalenti che hanno rappresentato lo sviluppo economico nazionale hanno visto la totale disattenzione del governo in un processo di riqualificazione e reindustrializzazione di questi territori Tutti viviamo lo stesso problema il problema del forte inquinamento e delle bonifiche mai avviate quindi è chiaro che anche le istituzioni dovranno prendersi carico delle loro responsabilità e quindi la presenza del governo centrale in merito ad una esposizione chiara su quello che deve essere il futuro di questi territori e soprattutto di Gela Protesta degli imprenditori agricoli contro il rincaro dell'acqua e il pagamento di pendenze per conguagli si è svolta questa mattina nei locali del Consorzio di Bonifica di Gela la tariffa oraria dell'acqua è stata aumentata da 15 a 22 euro e la quota fissa da 10 a 19 euro una situazione, dicono gli imprenditori, divenuta insostenibile che aggrava pesantemente il comparto mettendolo fuori dal mercato la precarietà delle dighe e quindi l'impossibilità a garantire acqua sufficiente e di estendere il bacino di utenza che permetterebbe maggiori introiti deve convincere le autorità preposte a determinare nel territorio geolese il mantenimento dello status quo lo dice Salvatore Darma, commissario dell'UNZIC Unione Nazionale Sindacale, imprenditori e coltivatori le cause evidentemente sono legate alla irresponsabilità di un governo regionale che ritiene che entro il 2020 tutti i costi del Consorzio e quindi anche del personale debbbero essere caricati sui Consorziati Già la quota fissa è passata da 10 a 18 euro mentre il costo orario è passato da 15 euro a 22 euro una situazione impossibile da sopportare da parte dell'agricoltore tra l'altro un tempo inglemente sta caratterizzando il nostro territorio dalla seccità ora occorre determinare quel coinvolgimento di tutta la categoria i vi compreso i dipendenti, non solo i lavoratori e gli agricoltori per una grande manifestazione, un incontro a Palermo perché il gelo non può morire La Regione ha previsto un disimpegno nella contributo sugli emolumenti quindi è giocoforza recuperare le entrate che prima provenivano dalla Regione da altri settori dell'organizzazione oltre ovviamente a tutti i risparmi di spesa che quest'ente è stato in condizione di fare